Con un sonoro 5-0 sull'Opido Lucano alle vicende societarie che hanno contraddistinto la settimana appena trascorsa il servizio di Fabrizio Caglianiello. Il primo risultato di questo grande caos societario è la fuga dei tifosi dallo stadio. L'incertezza regna sovrana in casa Brindisi. In attesa di notizie dall'imprenditore leccese trio si assiste ad una serie di duelli nei duelli. Tifosi contro i tifosi, soci contro i soci. Roberto Quarte e Guido Sernicola siedono in tribuna, Giuseppe Roma in panchina, De Finis e Galluzzo a bordo campo. La squadra guidata da un bravo Enzo Gagliano fortunatamente reagisce e asfalta l'Opido Lucano. Una prova di grande carattere da parte di questi calciatori ormai senza allenatore da più di due settimane. Veniamo alla cronaca, dopo tre minuti ci provano gli ospiti. Cross su calcio di punizione, il colpo di testa del numero 9 Lucano viene respinto da Rosti in corner. Passano ancora tre minuti, si fa vedere il Brindisi calcio di punizione di Guadalupe. La sventola finisce fuori di poco. Ottavo minuto sale in cattedra Nando Galetti che si procura un limpido calcio di rigore. Davvero in uno stato di forma eccellente. L'attaccante argentino sulla dischetto si presenta Mignogna che spiazza l'estremo difensore. Avversario Brindisi 1-Opido 0 e la formazione biancazzura riesce a scacciare così i fantasmi di questi primi minuti del match. A questo punto la partita è a senso unico e Galetti ancora una volta si mette mostra al tredicesimo. Cross dalla sinistra, colpo di testa ravvicinato del Bomber che trova il raddoppio. 2-0 in meno di una quarto d'ora, partita tutta in discesa per i bianco-azzurri. Quarto centro stagionale per Galetti. Diciannovesimo minuto, prova a riaprire i giochi. L'Opido con questo tiro di Leone che finisce alto. 24esimo, il Brindisi riesce anche a dare spettacolo. Cross largo di Greco, volé spettacolare di Mignogna che trova la terza marcatura. Il nono gol stagionale per il trequartista Tarantino, ottavo in campionato. Anche lui si gode uno stato di forma davvero eccezionale. Vale la pena rivedere la volé al volo di Mignogna. Un gol davvero molto bello. 29esimo, si riporta in avanti Loppido con un tentativo di scalone che viene respinto da Rosti, sempre attento. 33esimo, combinazione Mignogna-Galetti. I due migliori in campo fino a questo momento temporeggia troppo, però Galetti non riesce a trovare la via del gol. Passa ancora un minuto, nuovamente Mignogna, appoggio per Guadaluppi. Palombella spettacolare per il poker. 4-0 per il Brindisi a 10 minuti dalla termine del primo tempo. Ormai una passeggiata per la formazione di Enrico. Anche in questa circostanza molto bella la geometria dei bianco-azzurri. Con le immagini di Nicoladamo andiamo negli spogliatoi. Il Brindisi a questo punto rallenta, non vuole fare troppo male ai malcapitati avversari. E allora due cambi per Gagliano. Escono Guadaluppi e Galetti dentro. Ketlun e Scarcella non cambia nulla però dal punto di vista tecnico-tattico. Poi al trentesimo entra anche Prisco. Esce tra gli applausi Mignogna e proprio Prisco al trentatresimo firma il definitivo 5-0. Risultato valido solo per le statistiche. È stato davvero una sorta di allenamento a porte aperte per il Brindisi in una giornata importante. Anche dal punto di vista tecnico-tattico che ha segnato il ritorno in campo dopo un mese di assenza di Roberto Taurino. Presenza molto importante in vista del big match in programma domenica prossima Liguori contro la Turris. La squadra alla fine riserva applausi per i giocatori bianco-azzurri. Ma l'attenzione di tutti è rivolta alla situazione societaria. In attesa e nella speranza che nelle prossime ore possa finire finalmente questa telenovela.